La Federazione Diocesana e Officine Culturali hanno siglato a Catania una convenzione che ottimizza la gestione del Museo Diocesano, delle Terme Achilliane e dell'ex Monastero dei Benedettini. Sentiamo di cosa si tratta. Al via la gestione coordinata di visite guidate al Museo Diocesano, alle Terme Achilliane e al Monastero dei Benedettini di Catania. Presentata stamane la convenzione firmata tra la Fondazione Diocesana per i beni culturali e Officine Culturali, associazione incaricata della valorizzazione del Monastero dei Benedettini. Si vuole puntare alla promozione dello sviluppo del turismo culturale e dell'integrazione di quei percorsi museali attraverso la narrazione delle vicissitudini storico-architettoniche di alcuni tra i beni monumentali più significativi della città catanese. Il Museo Diocesano di Catania e l'associazione Officine Culturali che si occupa delle visite guidate e della valorizzazione del Monastero dei Benedettini con oggi aprono una stagione di collaborazione per permettere a visitatori singoli, turisti del turismo delle cosiddette città d'arte ma anche gruppi organizzati e soprattutto alle scuole di poter visitare con un biglietto integrato sia il Museo Diocesano che il Monastero dei Benedettini di San Nicolò all'Arena che non è neanche molto distante da qui.